amici di youtube ben trovati ad un nuovo mini tutorial filmato fabio ambrosi punto it ogni giorno ne esce uno dal lunedì al venerdì alle 14 quest'oggi parliamo di come creare l'effetto fleur sui nostri video utilizzando il software adobe offer effetto abbiamo solo tre minuti quindi iniziamo subito cos'è il fleur intanto come definizione bene il fleur può essere tradotto in italiano o almeno così viene tradotto in adobe a floor effect come riflesso lente spiegato semplicemente il fleur non è altro che il riflesso che un corpo luminoso in questo caso il sole proietta sull'obiettivo della nostra fotocamera o della nostra videocamera ora prendete come esempio questa immagine c'è un sole c'è il sole o un sole perché potrebbe essere anche l'immagine è presa da un altro pianeta chi lo può sapere questo comunque un sole che proietta la propria luce verso l'obiettivo della fotocamera generando questo riflesso quello che vedete davanti a voi in realtà è un fake perché io vado a spegnere a togliere a rimuovere l'effetto con cui ho creato questo fleur e vedete che in realtà l'immagine è priva di qualsiasi riflesso come creare questo effetto in adobe after effect molto semplice selezioniamo il livello che vogliamo manipolare su cui vogliamo aggiungere il nostro effetto fleur e tra gli effetti cerchiamo l'effetto riflesso lente lo trovate nella categoria genera genera riflesso lente eccolo qua clicchiamo e già così senza fare nulla vedete che viene aggiunta una luce un punto luminoso e quando muoviamo questo punto luminoso viene automaticamente aggiornato anche il riflesso che dovrebbe avere sulla nostra lente bene io vado a posizionare questo corpo luminoso in prossimità del nostro sole vedete che viene aggiunto appunto un fantastico riflesso la versione base dell'effetto riflesso lente di adobe after effect non ha moltissimi parametri potete decidere il tipo di obiettivo che va a creare il nostro fleur potete scegliere e animare ricordo tutto tutti i parametri che hanno un cronometro sono animabili potete dicevo scegliere la posizione potete scegliere anche l'ammontare della luminosità del corpo luminoso e quindi del riflesso sul nostro materiale multimediale e basta così può andare bene se si hanno poche pretese ma se si vuole andare oltre c'è un fantastico plugin disponibile sul sito videocopilot.com un sito che tra l'altro ha molti video tutorial dedicati ad after effect e c'è un plugin che costerà un centinaio di euro o poco più poco più dipende dalla versione che acquistate che permette di fare molto altro bene per aggiungerlo basta navigare una volta installato il plugin alla voce video copilot scegliere la voce optical flur questo è il lume del plugin e vedete che questo è un plugin che ha già guardando tra le opzioni moltissimi parametri con cui giocare bene io intanto imposto che lo sfondo non deve essere sul nero ma deve essere trasparente quindi voglio fondere questo questo effetto con il video sottostante ho qui il mio corpo luminoso come con il plugin di base di after effect ma dicevo ci sono molte opzioni con cui giocare e non le vedremo ovviamente in questi in questo video tutorial breve questo mini video tutorial ma per darvi un'idea cliccando sulla voce options potete vedere che c'è un fantastico pannellino e moltissimi preset in cui è possibile navigare in cui è possibile cercare il tipo di riflesso che si vuole utilizzare ovviamente customizzandolo come come lo si desidera clicchiamo su ok il nostro flur viene aggiornato vedete che potete fare cose molto molto carine finisce così anche questo mini tutorial firmato fabio ambrosi punto it io vi ringrazio iscrivetevi a questo canale e accendete le notifiche per restare sempre aggiornati se avete voglia e se avete richieste particolari scrivete all'indirizzo tutorial chiozzola fabio ambrosi punto it se vi fa piacere cercate e mettete un like alla pagina facebook fabio ambrosi ciao e grazie